Se vuoi arrivare là in alto, la mente e i pensieri devono essere sulla stessa frequenza di ciò che desideri. Ascolta, se nulla viene creato o distrutto, tutto si trova già qua. Se non in uno stato, certamente in un altro, in nulla viene creato o distrutto. Se vuoi ottenere quello, devi capire che devi pensare su quella frequenza. E per farlo devi prendere una decisione cosciente. Puoi prendere una decisione e seguirla, se è conveniente. Ma quando prendi una decisione decisa, lo fai a prescindere. Non conto le probabilità. O che nessuno l'abbia mai fatto prima. Non mi interessa se la gente non è mai arrivata alla cima, io ci arrivo proprio adesso. Queste linee rappresentano i livelli di vibrazione. Ogni frequenza è collegata a quella superiore ed inferiore. Lo sappiamo, lo abbiamo studiato molte, molte volte. Gli scienziati e i teologi ce lo dicono. Qua c'è una vera lezione, se vogliamo capirla. Ok, guarda per un momento. Qui è dove ti trovi in questo momento. Questa è la linea gialla che rappresenta il livello di coscienza in cui ti trovi. Questo rappresenta ciò che senti mentre ti parlo. Ok? Ora, qua è dove non siamo mai stati ed è dove vogliamo arrivare. Vedi, il nostro cuore ci spinge ad andare sempre più in alto, più lontano, persino più veloce. Dovremmo ricordare come siamo arrivati al punto in cui siamo. C'erano delle lezioni qui. Se prestassimo attenzione ci accorgeremmo di come ci spostiamo da una frequenza all'altra. Sappiamo di essere qui, ma come ci siamo arrivati? Bene, fermiamoci e riflettiamo. Tu hai corso un rischio. Non c'era alcuna prova fisica che dimostrava che potessi farcela. Quindi quello che devi fare ora è salire ed immaginarti già lì.